Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana, sulla A1. In direzione Bologna è chiusa l'entrata di Firenze Sud per lavori fino alle 6 del 30 di gennaio. Su raccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo, tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. La viabilità cittadina a Firenze, Lungarno-Vespucci, è chiuso da Piazza Ogni Santi a Piazza Goldoni per pericolo caduta di materiali da un palazzo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.